Amici, scusate che vi dico qualcosa mentre mi sto allenando in questa meravigliosa palestra che voi avete visto uno spot meraviglioso, vi chiedo fortesemente, siccome ho visto gli iscritti al sito buffa tv 4.0 e ce ne sono 133, vi devo ringraziare, però va bene che sono picchi, a me piacerebbe se arrivassimo a 1000 e siccome io ho 5000 amici su facebook, nella pagina buffa c'erano 7800, ho amici a Tinguite, quindi vi prego cortesemente cliccate dove c'è scritto iscrivetevi e dove c'è la campanellina dopodichè aumentiamo così voi vi potete vedere tutti i video che faccio io, che sono interessantissimi vi voglio bene, arrivederci e grazie al nostro regista ciao 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 ciao